Bello qua? Che cosa è questo? La storia della sua vita È ai 90 anni La mia storia in poche righe E questa signorina qua, chi è? E questo invece Hai visto? E che abbiamo in questo bel libro? C'è tutta la sua vita Tutta la mia storia La storia è da 10 anni Da 10 anni fino a 90 anni Vedi? Con l'arrivo Pugli Ecco, vedi? Questo è anche il suo fattoletto rosso Guarda Vedi? Vedi il suo fattoletto rosso? Sì Bello questo libro E dove lo possiamo acquistare questo libro? No, che acquistare? Questo è personale Domenica ci porti anche il libro Così lo leggiamo insieme Una pagina di questo libro E facciamo vedere anche ai giovani Che una donna Arrivata a 90 anni Fa anche il libro A sabato No, nord e accatto sud Lasso, nord e scienno sud Nu, nord e scienno sud Grazie.